Andiamo a vedere in questo video l'incipit del padrino, uno degli incipit più famosi della storia del cinema e andiamo a vedere come mai è così efficace, analizziamolo quindi nel dettaglio. Il padrino è un film del 1972 diretto da Francis Ford Coppola. Si apre in un modo inusuale, si apre con il nero. Su questo schermo nero sentiamo la voce, la voce poi scopriremo di Amerigo Buonasera, sostanzialmente un immigrato italiano che fa il becchino, nel senso si occupa di una sua impresa di pompe funebri, lo scopriremo molto più avanti nel film, e dal nero, attraverso una lenta dissolvenza, compare il volto di questo personaggio che si sta rivolgendo fuori dalla macchina. Tutto intorno è nero, lo stesso personaggio vestito di nero, eccetto per la camicia bianca, si capisce dall'accento essere italo-americano, e sta appunto parlando, con lo sguardo rivolto fuori dal campo, a un altro personaggio che noi non sentiamo. La macchina da presa lentamente va indietro fino a scoprire che quest'uomo è seduto all'interno di una stanza che sta parlando a un altro uomo di cui iniziamo a intravedere una mano come appoggiata al viso. E a un certo punto quest'altro uomo, tra poco scopriremo essere Marlon Brando, il padrino Don Vito Corleone, fa un gesto sempre rivolto a un terzo personaggio che porta un bicchiere, immaginiamo un bicchiere di superalcolico, al personaggio Buonasera, seduto davanti a lui. Cosa sta raccontando questo personaggio? Sta raccontando di una violenza subita dalla figlia, di cosa ha fatto successivamente, quindi essersi rivolto alla polizia, del fatto di non essere riuscito ad ottenere giustizia, e quindi si rivolge al padrino per ottenere giustizia. A questo punto interviene la voce di Marlon Brando, Don Vito Corleone, che chiede appunto che cosa voglia da lui. Il personaggio di Buonasera si alza, si avvicina quindi alla macchina da presa, l'inquadratura è sempre la stessa, come potete vedere è di spalle rispetto al padrino, parla nell'orecchio di Don Vito Corleone e dopodiché ritorna a posto. Solo a questo punto abbiamo il controcampo, Don Vito Corleone seduto, che all'inizio nega appunto la possibilità di aiutare Buonasera nel suo intento di vendetta. Non è la parte richiesta esplicitamente, quello che dovrebbe essere il centro del dialogo, la parte più importante, la richiesta fatta da Buonasera al padrino, noi non la sentiamo. E questo è già un punto molto interessante. Tutta la scena è concepita come uno svelamento, come un non detto. Quindi andiamo avanti e poi ritorniamo indietro per analizzare nel dettaglio. Quindi abbiamo una serie, si vede quindi la stanza nel totale, e continua il dialogo tra il padrino e Buonasera. Il centro del dialogo è appunto di fatto una lamentela da parte del padrino che si lamenta che questo suo compatriota non lo abbia consultato prima, che non abbia voluto essere suo amico, che non lo abbia tenuto come amico in famiglia, che nonostante appunto la moglie del padrino sia stata la madrina del battesimo della figlia di Buonasera, i rapporti si siano interrotti, e alla fine si arriva attraverso questo dialogo abilmente scritto e orchestrato, l'uomo dichiara la sua fedeltà al padrino e Don Vito Corleone promette di fargli vendetta, ma non nei termini in cui sto dicendo io, dirà, dice che poi, prima o poi, gli dovrà rendere il favore. Quindi è implicito che farà quello che gli è stato richiesto in cambio di un futuro scambio, di un futuro ritorno che Buonasera dovrà fare e che nel film, non lo svelo, anche se è famosissimo, comparirà, questa scena appunto avrà un seguito intorno alla metà del lungometraggio. Ora, questo è quanto accade. Dicevamo che il nocciolo è il non detto. Coppola vuole lavorare, vuole creare tutta la scena, orchestrandola intorno al non detto e intorno alla figura del padrino, interpretato in maniera magistrale, una delle interpretazioni più famose della storia del cinema, da parte di Marlon Brando. Quindi il centro di questa scena è, dicevamo, questa richiesta di Buonasera fatta all'orecchio di Marlon Brando, richiesta che non sente nessuno, che non sente il pubblico, nonostante avvenga nella parte più vicina alla macchina da presa. Nel momento in cui Buonasera parla a Marlon Brando, siamo proprio attaccati, noi pubblico siamo proprio attaccati. Vediamo il dettaglio del viso di Brando, il dettaglio del viso di Amerigo Buonasera, che parla nel dettaglio quindi di questi due personaggi, ma non sentiamo. È la tecnica usata da Coppola per farci partecipare, per farci comprendere lo spirito della scena e lo spirito di fatto del film. All'inizio non siamo in una soggettiva vera e propria, perché il personaggio non si sta rivolgendo direttamente a noi, ma è come se la macchina da presa fosse posizionata accanto al padrino e quindi noi siamo immersi nella scena. Il primo momento in cui il padrino compare è attraverso il gesto della mano, questo gesto che già dà un grande peso al personaggio, perché soltanto muovendo una mano fa compiere un'azione e questo già ci cala nella forza del personaggio, che non ha bisogno di parlare. Forza del personaggio che è ribadita dal fatto che mentre il personaggio introduttivo iniziale deve parlare a lungo e ci racconta nel dettaglio tutto quello che è successo a sua figlia, il padrino reagisce protestando, ma in modo tranquillo. Brando, concentriamoci sul nome del personaggio, Don Vito Corleone sta tenendo in braccio un gatto, è vestito in maniera molto elegante, lo scopriremo dopo perché è il giorno del matrimonio della figlia, e in questo dialogo non dice mai niente di esplicito. Chi è esplicito è l'altro personaggio, e il padrino non lo è. E tutta la scena è studiata per rafforzare questo modo di essere implicito. L'ambientazione, tutto, è in questa stanza completamente buia. Capiamo dalle luci delle finestre che fuori è giorno piede, e lo vedremo subito dopo nel proseguimento della scena, ma la stanza è al buio. Simbolicamente si sta parlando di qualcosa che non deve essere scoperto alla luce del giorno, e si sta parlando di qualcosa che non deve essere detto chiaramente, e infatti non viene detto chiaramente nulla. Da un certo punto di vista Coppola coglie lo spirito del pensiero mafioso, il non essere mai chiaramente e dichiaratamente espliciti. E questo ha un grande impatto sullo spettatore, perché si capisce, lo spettatore arriva a capire, ma di fatto ragionando non può dire ah sì perché l'ha detto lui, perché non è stato detto niente. E questa è la chiave di interpretazione della scena. Il buio che quindi ci crea questa atmosfera di mistero, il dialogo che preso e letto normalmente, soprattutto il dialogo, non parliamo del monologo iniziale, ma il dialogo non dice nulla di compromettente da nessun punto di vista legale. E, ultimo punto, la dinamica dei personaggi. Il padrino non si alza all'inizio, non parla. Parla molto tranquillo, non è sconvolto, anche se sta rimproverando il suo interlocutore. E quando si alza, si alzano anche gli altri personaggi. Si alza anche Tom, uno degli assistenti di Don Vito Corleone, presente nella stanza. E questo già ci fa capire, senza che ci sia bisogno di dirlo, l'importanza del personaggio. E il gesto di sottomissione da parte di Buonasera, che appunto dichiara di essere nomina alla fine Don Vito Corleone come suo padrino e gli bacia la mano, suggella tutta la scena. E quindi, nello studio di questo piano, di questa sequenza, basata su pochissime inquadrature, ma su una grande dinamica, una grande tensione tra i personaggi, una scena che richiede al pubblico una grande concentrazione, di prestare attenzione a tutti questi messaggi, a tutte queste informazioni che costellano questi primi cinque minuti e che danno già uno spessore immediatamente al personaggio di Don Vito Corleone. Inoltre, non c'è una musica che crei suspense, è sufficiente il dialogo, il silenzio iniziale è sufficiente e la dissolvenza dal nero ci dà un'idea di incipit in media stress, cioè siamo proprio già nel corso degli eventi, ma il nero è anche un simbolo, è un qualcosa che emerge, un'immagine scura che emerge dal buio, il buio potremmo quasi dire dell'organizzazione mafiosa, il buio in cui si trova la stanza, il buio in cui vivono questi accordi, questi affari, che non devono essere esplicitati e che giocano su rapporti di forza tra i personaggi basati e giostrati e gestiti dall'abile regia di Coppola sulla loro posizione, sulla posizione dei personaggi stessi e su un uso del campo e contro campo molto semplice, niente di articolato, perché semplice è il rapporto che si crea, il rapporto di sottomissioni, da notare a questo punto di vista, che fin tanto che il personaggio di Buonasera piede al padrino un intervento, dichiarandosi disposto a pagare, a fare quello che serve, a dargli quello che vuole, ma non la sua sottomissione, il personaggio di Buonasera è in piedi, sembra dominare, cerca di dominare in qualche modo, vorrebbe dominare, vorrebbe mantenere in qualche modo il controllo, cioè dare, chiedere al padrino qualcosa, ma offrendo in cambio qualcosa che gestisce lui. Il rapporto cambia quando il padrino si alza e quindi fa capire che per ottenere quello che vuole non serve un pagamento, ma serve un altro gesto, che appunto è la sottomissione al padrino. E quando avviene la sottomissione al padrino, con il bacio a mano, allora si invertono i rapporti, allora a quel punto il padrino ha vinto all'interno di questo dialogo e di questo confronto. Questo è quanto per l'analisi di questa sceglia. Se avete domande, dubbi, volete discutere ancora, scrivete pure nei commenti qua sotto.